Si chiama EMMA, Empowerment e Integrazione Servizi Pubblici per i Migranti. Acronimo e denominazione di un progetto che da un anno ha messo in rete i sei comuni dell'Unione Pian del Bruscolo per realizzare un modello di integrazione dei migranti presenti sul territorio, a cominciare dalla formazione sulle specificità culturali, calibrata sui servizi pubblici che ospitano le comunità straniere. Dalla scuola all'ufficio anagrafe, dagli assistenti sociali alla polizia locale, fino alla creazione di uno sportello antidiscriminazione, si è realizzato un progetto che ora diventa un modello di inclusione replicabile anche in altri territori e che oggi ha pubblicato la bontà dei suoi primi risultati nel comune di Pesaro. Penso che sia un buon investimento quello dell'Unione Europea e del Ministro degli Interni di circa 300 mila euro, un anno e passa di lavoro, di circa 200 operatori della pubblica amministrazione, i settori della sanità, della polizia locale, della NAC per Stato civile, delle politiche sociali degli enti locali, rivolte agli immigrati dall'Italia, gli immigrati dell'Europa e del mondo e ai cittadini dei territori con l'obiettivo di una coesione, di una forte inclusione e di una comunità che diventa davvero comunità. C'è la necessità di avere una comunità coesa che ha, diciamo, un rapporto quasi familiare come nelle vecchie famiglie, dove non creano tensioni, dove non ci sono problemi di sicurezza e ordine pubblico. A supportare l'Unione PN del Bruscolo anche l'Università di Urbino, l'Ambito Territoriale Sociale 1 e la Cooperativa Labirinto, parte attiva del processo di formazione. EMMA rappresenta, secondo noi, un progetto molto importante perché sdogana la visione del migrante solo come appunto richiedente asilo, ma riporta l'attenzione come nei nostri territori i migranti e le nuove generazioni anche di migranti, insomma, si stanno moltiplicando. E allora un territorio coeso e capace è formato assieme, ma ha anche degli accessi, degli strumenti che permettono un accesso ai servizi facilitato, come i totem che stiamo per fornire a tutti i comuni e mette a disposizione anche una piattaforma delle reti, delle opportunità da mettere sul territorio, perché guardate, più il territorio si rende inclusivo, più includiamo queste persone, più queste persone diventano un valore aggiunto per questo territorio. È inutile negare un percorso che ci sta portando a una società cosmopolita. E ma noi, ci tengo a stolinearlo, è una bella pratica perché è nata proprio dall'inizio, nella progettazione, è un progetto FAMI, è un progetto perciò proprio per l'inclusione attiva dei migranti, ma è nato in coprogettazione con l'ente pubblico. Io penso che sia importante questo, perché non è più il tempo dove la cooperazione sociale gestisce solo dei servizi, ma ha appunto competenze decennali che mette a disposizione e che insieme all'ente pubblico tentano di creare quella rete che è proprio una rete che rende sostenibili i percorsi di cambiamento e d'accoglienza.